Benvenuti a tutti in un nuovo video di StarCraft e oggi avvia missione No ci ritroveremo... è ancora costata Ma lo vorrei vedere pure io però stack Io Non lo so Oggi faremo un'altra missione su StarCraft e... boh chissà cosa succederà A quanto ho capito dovremmo sluggiare con Sarah Kerrigan però non so Vedremo vedremo Dai, su, dai chi riesce a caricare, dai, vai, dai Quindi, l'ero, guarda Ecco Oh, ce l'ha fatta Io so già cosa è successo in realtà Però non vi dico nulla Morto 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 Vai andiamo Sì effettivamente Di qua dobbiamo andare No, di qua Cos'è sta cosa? Kerriga regenerativa Questo terminale rigenerativo di guarirà Si ripristinerà parte della vostra energia Buona fortuna Io me ne vado Ciao Morto Voi tornati dietro Io vado avanti Morto Allora, dai, su Mi sa che questa missione è breve però Vabbè Vabbè Allora, prendiamo questo acqua che mi rigenerà l'energia E andiamo Che succede ma? Rispondi, Valerian Il corridoio principale è bloccato Vuoi aprire la porta laterale a 12? Certo Ma fate attenzione Gli esemplari Zerg si sono liberati durante l'attacco Sì, riesco a percepirli là sotto Ma è meglio non provare a controllarli Non ti chiederò di farlo Ce ne occuperemo noi La porta si aprirà tra 3 2 1 I Zergling sono troppi Eh, attento Sto tankando Kerrigan Che frega voi Au Non mi fate tankare tutte però Visto Non ha morto nessuno E si scende giù Kerrigan Le mie forze hanno assunto il controllo della sicurezza Stiamo per isolare questo complesso Non peggiorare le cose per tutti Arrenditi Uh, nova Vado subito Ricevuto Il lavoro Vogliono strappolarci Forza piccola Dobbiamo superare quelle porte Mi dispiace Avete spiace Avanzamento tattico Ricevuto Procedo Vado subito Il lavoro chiama Penso Sì, ti sento Valgo quanto una è decido Marta Allora Ora ho più capelli grigi Mh Io ho più capelli zerg Da posto Già Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta C'è avuto Viamo Bene Procedo No, povero Vado subito Non fermatevi Stanno per sigillare la zona Vado subito Facciamo così Dove vanno? Di qua dove ti andai? Avanzamento tattico Avanzo Pensavo la stessa cosa Marta Marta Ricevuto Procedo Un'ultralisca Vediamo se le piace una scarica cinetica Eh, aspetta la scarica cinetica va Questa non ce l'aveva bisogno Mai dire morto Cos'è? Come dire gol Distanza Ma leggermente Manco tanto Distrugge le macerie Dobbiamo raggiungere quella porta Bene Distrugge Pensavo la stessa cosa Checkpoint raggiunto Andiamo Nice Nice Porta qui cari Verifico molte truppe del dominio Nella prossima stanza Sembra uno scontro impegnativo Hanno degli zerg in gabbia lì dentro Possiamo usare questa console per liberarli Oppure possiamo usarla per attivare il gas defensivo libero il zerg il zerg ma che diavolo? chi ha aperto le gabbie? buongiorno ora dobbiamo preoccuparci degli zerg ha equilibrato lo scontro però, andiamo avanti vado subito avanti bene morto ricevuto procedo il lavoro chiama mi fece danni sta cosa? ah si andiamo quindi quindi ci ritiriamo sono diretto verso l'iperio ricevuto valerian contattaci quando sarai sul ponte siamo rimasti io e te muoviamoci ciao paparavà il dominio è penetrato nella galleria procedo avanzo ricevuto non posso avere un tank tanker procedo pensavo la stessa cosa che c'è? vado subito un viking in meno il lavoro chiama bene vado subito avanzamento tattico pensavo la stessa cosa bene la piattaforma sta accelerando occhi aperti ragazzi già allora 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 da dove arriverà da dietro io penso da dietro no dove è andata? c'è abbastanza c'è abbastanza avanti avanti ricevuto no non far uscire nessun marino procedo avanti avanti ricevuto i nostri alleati sono sopportati perché poi mirano quelli centrali? sono dei geni dei geni dei mandarini proprio erano vanno pure apposti eh non lo posso controllare non lo possa proprio cliccare avanti Bene, ricevuto, hangar in vista, ci siamo quasi, la stessa cosa, un carro da serio, posso eliminarlo con una scarica cinetica, un po' più muovere, un po' di vino, procedo, il lavoro chiama. Dai, nessuno, ma staremo per arrivare all'hangar, buh. Bene, avanzamento tattico, vado subito, procedo, avanzamento tattico. Perché non mi parla una buona idea? Ora? Archangel in posizione, sono in copertura dell'hangar navette, forze del dominio, avanzare. Jim, l'archangel è tra lui e la tua navetta. Maledizione, Sara, proverò un'altra strada per raggiungerti. Beh, farai meglio sbrigarti, o ucciderò questo coso senza di te. Beh, farai meglio sbrigarti, o ucciderò questo coso senza di te. Geni? Geni? Avanzamento tattico. Progetto. Bene. Pronta all'azione. È un buon momento per una scarica cinetica. Capsule da sbarco in arrivo. Bene. Non è la stessa cosa. Sì. Ricevuto. Mark Angel. Aia. Sei un po' morto. Sì, ti sento. Diciamo che sei morto. Sbrigati, Jim. Credo stia per arrivare un'altra ondata. Sara, sono tagliato fuori. Non riesco a raggiungerti. Prendi la mia nave e vattene. Ci siamo appena ritrovati. Non ti lascerò qui. Reynor, Kerrigan. Sono sull'Iperion. Stiamo impostando la rotta per il punto d'incontro. Da voi come va? Kerrigan sta prendendo la mia navetta. Ho bisogno di un passaggio. Capisco. Mando subito una squadra. Vedi di non fallire, Valerian. Kerrigan, ci rivedremo al punto d'incontro. E mi dispiace di non averti dato ascolto prima. È troppo tardi per le scuse, Valerian. Jim, prenderò la tua nave. Ma se ti fai ammazzare, passerai grossi guai. Sì, ho ricevuto. Jim, stanno arrivando i rinforzi del dominio. L'Iperion è sotto il fuoco nemico e la mia squadra non può raggiungerti. Ricevuto. Portate l'Iperion al punto d'incontro. Troverò un altro modo per andarmene. Ci vediamo lì. Nova. Bene, bene. Jim Raynor. Se mi avessi aiutata per quel problema con Tosha, avrei potuto chiudere un occhio mentre fuggivi. Ma hai scelto male. Ehi, l'ho aiutata. Beh, fatti sotto. Ma che dici? L'ho aiutata. Ti sento. Quindi, per questo video è tutto. Alla prossima. Ciao ciao.